Torniamo anche questa settimana a Casius Veneti di Piazzola sul Brenta. C'era lì per noi Andrea Marcato che ha incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan con cui ha fatto un bilancio del comparto primario. Facciamo il punto dopo un'estate siccitosa della situazione dell'agricoltura nel Veneto. Sì, diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla in questa estate, che siamo partiti da un inverno particolarmente siccitoso, già di suo. Poi è continuata questa siccità durante tutta la primavera e l'estate. Abbiamo avuto delle gelate tra l'altro tardive in aprile che anche lì abbiamo avuto diversi danni. Poi trombe d'aria grandinate e siamo arrivati a settembre comunque con un po' di pioggia che ci ha dato conforto. Chiaramente le culture ne hanno subito, hanno subito una riduzione nelle rese e quindi sicuramente in tutte le filiere dal 10 al 20 al 30% in meno nelle produzioni c'è stata. Ma in tanta altra parte abbiamo avuto delle culture più sane, in cui ci sono stati minori trattamenti, minori naturalmente interventi da parte dell'uomo e quindi le produzioni che ci sono, anche seppur diminuite, sono sane e quindi buone. E quindi assolutamente possiamo dire che sia stata un'estate particolare ma che comunque sta dando soddisfazioni per quanto riguarda la qualità dei nostri prodotti veneti. Viticoltura all'apice, i vini saranno di buona qualità, le rese non saranno elevatissime però la qualità la fa da padrona. Sì, quando le rese sono basse è chiaro che la qualità diventa appunto il punto di eccellenza. Già c'era alta la qualità anche con le rese normali. Quest'anno probabilmente sarà ricordato per degli ottimi vini una volta finita la vendemmia che ormai si sta concludendo in tutte le parti. Quindi una vendemmia che sta dando soddisfazioni pur appunto nella diminuzione delle rese. e nelle mie visite alle cantine ho capito comunque che tutti quelli che vanno a vinificare mi dicono che sia un anno da ricordare appunto per la qualità. Abbiamo poi delle filiere come quelle della carne e del latte che si stanno riprendendo anche per problemi che sono diventati meno a livello internazionale ma anche per una richiesta ad esempio di maggior burro rispetto agli oli vegetali che è stato scoperto che fanno più male magari di quelli di derivazione del latte o derivati del latte. Quindi una ripresa del consumo soprattutto nei paesi dell'est una ripresa dei prezzi del latte in questo momento speriamo che continui questo trend per dare soddisfazione anche ai nostri allevatori che hanno sofferto anni veramente difficili. Tra poco ci sarà un salone importante per quanto riguarda l'ortofrutta Madrid Fruit Attraction c'è stato un comparto che ha risentito un po' di sbalzi di prezzi il comparto delle pesche, cosa ne pensa Assessore? Sì, il comparto ortofrutticolo è un comparto che subito dopo il vino è quello più importante nel nostro Veneto diciamo le orticole appunto a parte i problemi climatici stanno avendo un buon anno diciamo che i prezzi invece dei prodotti frutticoli ahimè non danno soddisfazione soprattutto le pesche in particolare noi stiamo portando avanti un tavolo appunto regionale che presto presenteremo un progetto appunto un polo strategico sull'ortofrutta e sulla frutta in particolare per studiare insieme a tutti gli attori della filiera comunque nuovi cultiva, nuovi prodotti e capire quali sono le distorsioni del mercato e come affronteggiarle come regione Grazie a Giuseppe Panna, Assessore regionale all'Agricoltura del Veneto